La straordinaria cornice della Cappella Sistina ha fatto da sfondo ai primi battesimi amministrati da Papa Francesco. Il pontefice ha colto oggi nella grande famiglia di Dio 32 bambini, secondo la tradizione, proprio nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa del Battesimo del Signore. Nell'umilia pronunciata a braccio, Papa Francesco ha sottolineato che l'eredità più grande e più importante che i genitori devono lasciare ai figli è la fede, seguendo la catena ininterrotta di tradizione e inaugurata proprio da Gesù, che non aveva necessità di essere battezzato, ma che col suo corpo, con la sua divinità, nel Battesimo ha benedetto tutte le acque, perché le acque avessero il potere di dare il Battesimo. Pensate sempre come trasmettere la fede ai bambini, ha insistito il pontefice, dinanzi ai genitori, ai padrini, alle madrine presenti. In un clima di grande semplicità, Papa Francesco ha infine aggiunto. Grazie a tutti i bambini che fanno rumore e alcuni piangeranno perché non sono comodi o perché hanno fame. Se hanno fame, mamme, dateli da mangiare, tranquilli, perché loro sono qui il principale.